Noi abbiamo presentato il mese successivo alla proroga dei sei mesi una bozza di regolamento. Ancora non comprendiamo perché si perda ulteriore tempo. Bastava prendere un regolamento nazionale, farlo in copia, presentarlo in consiglio comunale e a quest'ora avremmo un regolamento dove regole certe sane davano la garanzia ai cittadini palermitani e agli imprenditori che volevano fare impresa nel settore. Situazione confusa, al limite dell'assurdo questa del suolo pubblico e dei gazebi. Pirandelliana. Per nascondere il buco del marciapiede, per evitare che qualcuno inciampi e che quindi il comune sia condannato a rifondere i danni al cittadino, veniamo condannati con cinque giorni di chiusura e far ridere. Purtroppo invece è una situazione drammatica. Dal punto di vista legale, ci si può opporre, è lecito opporsi? Allo Stato ci sono delle contestazioni, ci sono sia dei giudizi al TAR sia dei giudici di pace che hanno, i giudici di pace mi riferisco allo Stato sospeso la sanzione amministrativa in attesa di entrare nel merito. È chiaro che è un provvedimento provvisorio, però evidentemente il giudice di pace ha ritenuto che le difese e le eccezioni che abbiamo sollevato in questo caso per conto di alcuni esercenti non siano certamente infondate.